Avvocato Carola di Tarsia di Belmonte, siamo qui per la trentesima edizione del premio intitolato a Galeazzo di Tarsia. Quest'anno si premia il concorso letterario della trentesima edizione del premio Galeazzo di Tarsia, è un grande traguardo, questo premio è una costante culturale di Belmonte Calabro da quando è stato istituito nel 1993 e è molto suggestivo sia lo sviluppo del premio durante l'anno che è la premiazione in questa piazza raccolta sotto al busto di Galeazzo accanto alla chiesa madre, accanto alle rovine del castello, davanti a un mare stupendo ed è sempre un piacere e una gioia per me venire qui, premiare e dare le valutazioni ai partecipanti accompagnata anche dalla mia famiglia e spero che tutto ciò duri nel tempo. Grazie a tutti!